c'è un annuncio molto speciale di david john rubino day one day one di quello che poi sarà il suo percorso per quello che ho capito non so se non credo sia la stessa operazione che faccia riccio da quello che ho capito io sì perché alla fine la riduzione dello stomaco l'unico discorso che mi chiedo io che ovviamente lui adesso ha fatto penso abbia fatto la visita quella con la prima prima però la lista di attesa molto lunghe perché se vada privato te levano un sacco di sordi e non penso che sia al momento la volontà del rubino perché quello c'è proprio chi c'ha un anno due anni dipende perché dipende qual è il tuo grado di gravità di obesità e comunque david fortunatamente non è che tipo da vita al limite david è sovrappeso ma david intanto ci conferma in chat che sono caldissimi sono caldissimi sono caldissimi sono caldissimi pure quelle dei non so se una città ho incontrato delle capre il giorno di valore potrebbe aver palpato la cosa è che c'è spero per david che se faccia presto ma è anche una buona cosa da dire che comunque lui non è che sta in condizioni di quelli proprio che in te poi muove quindi non penso che era una priorità massima perché alla fine comunque lui se vuole riesce pure a allenare infatti vabbè io l'ho presa ma questa è un'accusa grave che non è grasso abbastanza ma che vuol dire è un complimento tu lo stai accusando che lo sta facendo cioè per pigrizia per vanità no 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 questo no questo nel senso capisco che a un certo punto perché hai visto io ne parlavo pure io dei miei risordini alimentari e anche spesso della non volontà da andare a malenare andare in palestra per risolvere magari quello che potrebbe risolvere in un mese di allenamento però ovviamente non è che lo risolvere in un mese però c'era pure una ragazza che l'altro giorno stava in live da lui gli ha fatto un po' stava fatto perché era un po' preoccupato cioè comunque sono operazioni invasive ma perché prima non provi ha fatto sei mesi di allenamento e va che mi sono pugilato palestra come stava a fare perché le sue condizioni non sono irrecuperabili gli fa una corsetta una corsetta un piano di allenamento e dei cose cioè io a me queste cose a me mettere sotto i feri soprattutto il discorso di anestesia completa a me mi fa una paura incredibile a me me l'hanno pure offerto cioè mi hanno pure proposto di operarmi per la schiena perché io ho produzioni gravi ho detto guarda quelle sette operi capace che risolvi io ho fatto col cazzo perché non c'ho c'ho paura delle operazioni in generale quella è una roba sì però boh non lo so nel senso siccome comunque rubino questo è un po' un appello che faccio io personale siccome lui è in grado al di là del del meme di allenarsi l'ha pure fatto si è allenato per pugilato per quell'incontro va a giocare a carcetto quando capi una cosa un'altra non è inabile al movimento non è che stava capito mi ricordo che ciccio stava tutto ciccio c'aveva bisogno ciccio quando quando ha fatto l'operazione il peso era più di 220 era molto diverso pure lui se si muoviva non è che stava su un letto bloccato però ve li ricordate si allenava però ricordo si muoveva una fatica mi ricordo ricordo che si allenava cioè aveva un'alimentazione ma faceva comunque fatica a vedere i risultati era quella la cosa quindi diciamo è stata da quello che ricordo io una scelta proprio forzata nel senso che è come quando le provi tutte vedi che non riesci stai sopra una certa soglia può essere di metabolismo quindi è anche impossibile fare un allenamento quello che hai detto tu è vero sono condizioni completamente diverse ma pure da dallo stesso joker dell'epoca e pure il joker stava sui 200 kg credo stava in condizioni molto diverse rispetto a quello ma poi per me c'è una cosa condivido quello che hai detto tu ma infatti vi dico tranquillamente che in privato io gli ho detto sta cosa qua e poi ho detto però capisco pure che la scelta deve essere tua no ovvio la scelta è 100% sua e comprendo anche guarda poi ci sto a pensare pure adesso è un po' quella cosa una volta che ho fatto sto passo non posso più tornare indietro e quindi non ho più scusanti eppure se voglio non ci riesco perché poi c'è una riduzione dello stomaco però ti dico una cosa però molti poi potrebbero come posso dire rimanere grassi pure nonostante l'operazione se la volontà poi non è quello le dico c'è anche sto rischio quindi oltre il trauma oltre l'operazione che ti riduce lo stomaco c'è pure il rischio quindi sono d'accordissimo quello che sta a dire è vero perché proprio il rischio non so se è il caso dei rubino però tante volte è dimostrato che se te non superi comunque i problemi alimentari che hai e comunque tu hai la ristrezione gastrica poi l'ha fatta pure mia madre però comunque mi sono informato un pochetto sull'argomento prima che la facesse e se comunque uno continua un'alimentazione sbagliata tu hai meno fame perché lo stomaco è più piccolo ma se te mangi comunque male magari mangi schifezze mangi torci fritti riempi quello stomaco soltanto ogni 20 minuti tutto il giorno magari ora in generale non è che dimagrisci per forza cioè infatti è molto importante non so se lo fanno anche in Italia dei cortisolo alti picchi glicemi si ma proprio controllare lo stato psicologico prima di operare di una persona a livello alimentare cioè nel senso come se c'ha disturbi alimentari come si ha capito che comunque deve sta dieta e dovrà mangiare di meno non so se è il caso di rubino io questo volevo chiederlo pure a Simone secondo te tu che ne pensi questa roba che tu su queste cose anche sul condizionare propriamente è un argomento pure che ti interessa ultimamente se tu non superi non veramente non operi su come funziona il tuo cervello in questo caso cioè puoi stringere lo stomaco quanto te pare cioè se io ho gola tremenda e ci avessi uno stomacchetto così capace che veramente me magno 200 dolci vado a vomitare e continuo a mangiare cioè non risolve il problema e poi ho visto pure ciccio stesso alla fine è che è diventato capito mistero olimpia a un certo punto pure lui ha trovato uno stallo e ne parlò anche nei suoi video dice cazzo non riesco più a dimagrire e là quello stallo lo superi per forza con la forza e volontà cioè nessuna cosa esterna te può aiutare sì sì penso che quello è proprio il potere delle cattive abitudini noi siamo un ammasso di abitudini c'è chi è più un ammasso di cattive che chi è più un ammasso di buone ma siamo comunque un ammasso di abitudini e dovrà Rubino come avete detto voi come chiunque faccia sto percorso cambiare le proprie abitudini alimentari però se arrivi a fare sta cosa significa che c'è abitudini alimentari per forza malsane quindi se pensi che è una scorciatoia che fai l'operazione poi ti dimagrisci perché tanto c'è lo stomaco più piccolo ovviamente sei un povero illuso chiunque tu sia su quello non eh perché hai visto te devi allenare devi fare la dieta ma è ovvio è ovvio e poi anche il fatto che ci stia facendo un format ovviamente vabbè parlando di col pubblico questo è un modo per dare un ulteriore condizionamento tu dici così l'ho detto a più persone per non deludere lì anche spesso è un po' una terapia d'urto no? perché magari sai se poi non parto a termine faccio pure la figuraccia con chi mi segue quindi è una cosa da tassa però può essere ancora più pressante ancora più hai capito? sia pro che conto cioè tu dici io lo dico al mondo così non mi posso dire indietro perché tanto ovviamente la percezione che il mondo ha di me è la mia vita e la reputazione tutto quanto oppure sì vabbè guarda per tutte le volte che Rubino ha fatto hashtag cambiamento stavolta quasi gli è credo no no anche perché se fa quel passo ovviamente quello è irreversibile ma l'unico discorso è che veramente l'appoi bisogna cambiarle davvero perché poi per esempio l'appoi non puoi vivere gassate manco l'acqua gassata l'alcol ma Rubino non beve l'alcol dai raramente guarda te dico nel senso io mi sono preoccupato stai visto quando lo e poi Rubino l'altra volta ha detto no perché hanno detto che io l'altra volta mi sono sentito male lui ha pure risposto alle cose che hanno detto io mi sono sentito male quella volta perché ho bevuto mi ero ubriacato io non parlavo di quella volta specifica quella volta feci un monito dicendo la roba dell'ambulanza l'hanno drogato gli avevano messo qualcosa all'interno del drink così dice lui però la ricostruzione che lui si ricorda era un po' vaga perché c'è sta ancora il video social boom lui dice che è stato portato via d'Arzansara ma in realtà non sa niente ma c'è sta il video di lui che saluta e va via in ambulanza quindi non lo so forse lui a distanza di tempo l'ha pure un po' riformata e si ricorda male ma al di là di tutto la cosa che dicevo io del beve è che spesso e volentieri si è visto in live bere anche se fosse in cocktail, due cocktail e spesso si è arrivata di più non è una questione a nessuno fa bene ma ognuno fa il cazzo che gli pare però lui ti ricorda che è venuto ci ha raccontato che gli è stato diagnosticato il diabete se te hai il diabete diagnosticato e te bevi anche due cocktail al giorno te stai affandando quindi vuol dire che quello è sapere di avere un problema essere stato dal dottore che ti ha detto guarda questa cosa non la devi fare assolutamente e te la fai io ne so qualcosa perché io ce sto vicino al diabete per la merda che mangio quando vado negli episodi di binge eating e nonostante lo so che mi fa male mi distrugge poi anche quando ingrasso mi guardo mi sento male spesso e volentieri non riesco a fare meno qui è arrivato il momento sono david rubino ma ormai mi conoscete già sì sono il ciccione il porco il maiale colui che rimorchi e bacia solo se paga anche se non è vero perché secondo questa società se non sei di bell'aspetto non puoi andare da nessuna parte io ho passato gli ultimi anni critica sociale c'è sta c'è sta anche se smentire dal fatto del conoscitore che lui è cioè nonostante sia del bellissimo aspetto non va da nessuna parte comunque quindi anche questo fatto è sconfessato comunque andiamo mi piace la critica sociale di rubino cioè se non sei di bell'aspetto non va in vabbè in certi ambienti un po' diciamo obiettivo da visita no 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 è fattuale è fattuale a sentirmi dire solo questo oh fai schifo oh piccione oh do cazzo va questo ma rotoli bello eh immaginate sentirlo tutti i giorni da tantissima gente ho fatto mille diete sondini tutto ho fatto ma alla fine sono sempre sondini ah il sondino ha detto sondini che cazzo chi è dini che cazzo ho fatto ma alla fine sono sempre così tu dici vabbè oh ti puoi accettare ma che te frega uomo di panza uomo di sostanza è brutto è brutto perché per come sono io sto sempre attento che non mai ma sto video che è? questo video di sottofondo cos'è? è lui col cane non so se è lui tipo ma è lui è lui come non è lui è rubino è rubino ma che si è portato Yoshi al dottore ma forse è stare a casa no sta a casa sua qua no sta a casa sua sta a casa sua sta a casa sua e guarda il vuoto bene sto cercando di capire la costruzione artistica è Yoshi oppure un altro Shiba no è Yoshi è stato Akita beh oh ti puoi accettare ma che te frega uomo di panza uomo di sostanza è brutto ma chi è che dice così? è brutto perché per come sono io sto sempre io ho detto spesso proprio con quell'intonazione vabbè ma accettate così penso di averlo detto proprio a Rubino allora stavo citando te io ho detto spesso ma Rubino che te frega uomo di panza uomo di sostanza e ti ha usato come esempio di persona stupida l'hai traumatizzato Marco ma non c'è che state male con queste cazzate ragazzi queste frasi fatte ma lo penso schifo non mi tolgo mai la maglietta al mare perché mi vergogno alle volte non riesci nemmeno a avvicinarti ad una ragazza anche se non è il mio caso Maurizio Merlusso una volta mi disse metti la tua foto nudo sul cellulare come sfondo e quella sarà la motivazione per dimagrire non ci sono mai riuscito mi faccio proprio schifo c'ho una panza anche perché poi come non puoi più andare in giro puoi poter aprire il cellulare in pubblico adesso come guarda senti fammi vedere un attimo se ti arrivo per messaggio eh c'è un po' un po' problematico eh vabbè certo questo ha mai gli estremi estremi rimedi ho deciso di operarmi una decisione molto molto difficile ah oh è arrivato un messaggio di ciccio ah ruby ma che ti devo di da sliver gastrectomy calcola che a me mi ha salvato la vita con un aiuto se può arrivare il risultato non sarà semplice ti passeranno un sacco di te in testa che poi non magnerai più come farai senza mangiare oh mio dio il cibo bla 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 però poi ti abituerai e ti diventerà la normalità e poi uno si deve abituare è quello ho sentito una storia è vero che quando uno dimagrisci diventa stronzo no? diventa molto più sicuro di sé che è una cosa un po' diversa c'è forse questo luogo comune tra le persone grasse che quando uno dimagrisce diventa stronzo credo sia classico proprio questa parola la dico sempre ma mi piace tribalismo cioè è uscito dal non è più grasso come noi parte invidia sicuramente parte ah no me sta antipatico guarda come mo cioè pure se magari vedi un grasso da grasso vedi un tuo amico grasso che dimagrisce diventa pure più sicuro di sé sai come te roda il culo lo dicono pure i magri sai come inizia a odiarlo mi sembra questo no? aspetta ma Ciccio è effettivamente successo cioè una volta ti ricordi che era proprio simpaticissimo il king dei pacuri gli volano tutti bene e ultimamente invece ma infatti è palesemente a parte che sta parlando di sé palesemente però sì ma è sempre stato un po' con quell'altro di Ciccio no 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 io adoravo Ciccio io adoravo Ciccio prima secondo me corrispondenza dell'operazione è cambiato qualcosa ma forse c'è una correlazione reale eppure la dolcezza ma guarda che è una cosa reale non è percezione è proprio lui che diventa si 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 no con lui sono t'accordissimo dai perché dai è una cosa un po' diversa e quando ti conoscono che se tu sei un gran bambacione sei quello timido a chi diventi molto più sicuro di te e c'è una crescita personale allora ti danno tuo stronzo perché fa molto più comodo così c'è una cosa che non manca Rubino è proprio la sicurezza di sé nel senso uno mega spavato come si pone con le persone cioè riesce a parlare con tutti anzi certe situazioni in cui lo vedo io mi sarei bloccato quindi Rubino sembra stare a suo agio in qualsiasi contesto è ancora più camaleontico di me diventa sempre il boss della situazione dove sta è vero vero ho salutato mi madre che non capiva cosa succedesse ho salutato mi fratello e sono andato a fare la prima visita regà me stavo a cacassotto meno male che c'è Giulia che mi ha accompagnato e mi ha stata vicina anzi ah mamma mia sono un bello detto non succederò si è suicidato per la visita come hai salutato tutta la famiglia vabbè c'è sta il dottore mi ha rassicurato e sicuramente ci vedremo nel prossimo episodio dove vi racconterò anche le tre visite prima dell'operazione dai regà tutti ce la potremmo fare qua parlavo però non era sì tutti ce la potremmo fare nel senso ce la faremo poi c'è da vedere non è detto però che ce la facciamo ce la potremmo fare una verità universale ce la faremo il finale è bello perché è aperto perché sai non ti dà una certezza assoluta tutti ce la potremmo fare sulla carta però non proprio non 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 non